C'è gente che la va tre volte al D in bottega, no, in bottega si va una volta al giorno, non si va al massimo e se riusciamo a saltare anche un giorno va bene manca quello, arriva a segnalazioni che gli anziani si ritrova in cantina, no, no, non si ritrova al bar e si ritrova in cantina, no, siete la categoria più a rischio, non si va nel vault del vicino di casa per bevere in bianco, no, no.